un nuovo appello d'azione dall'associazione aronne per un vero gioiellino peloso billy incrocio volpino di media taglia di soli due anni a tutte le qualità per essere il tuo cane è perfettamente sano giocherellone vivace affettuoso una vera esplosione di dolcezze e allegrie billy aspetta solo te arricchisci la tua vita con l'amore del piccolo billy grazie